benvenuto benvenuto in ac69 crypto trading iniziamo a parlare di nier del progetto crypto nier in questa serie di nuovi video faremo analisi fondamentale e non solo di trading con la premessa che i progetti che ti farò vedere sono anche nel mio portfolio per il lungo termine quindi ho investito in nier e non sono consigli finanziari che cos'è nier andiamo su coin gico o coin gico punto com lo cerchiamo qua in alto a destra si chiama nier protocol attualmente è alla posizione 37 del coin market cap perché nier come funziona nier iniziamo a vedere che l'offerta massima è un miliardo di token l'offerta totale e anche massimo quindi non potrà mai superare come tiratura massima un milione di pezzi l'offerta di token nier in circolazione 865 milioni quindi ne mancano più di 103 no circa 135 mi 135 milioni si con questi numeri un po numeri elevati 135 milioni di pezzi ancora da mintare gli interessi per lo staking su nier sono circa l'11 per cento e ci arriviamo andiamo a fare un'analisi veloce tecnica su massimo dei periodi di nier possiamo vedere che è inventato a ottobre 2020 in realtà il progetto è partito anche prima ci arriviamo il prezzo in genere stato intorno ai 70 è partito da un dollaro e 18 e poi è calato fino a 70 53 centesimi la cosa che mi piace particolarmente di nier è che nonostante insomma avuto un picco massimo di circa 20 dollari al pezzo ma durante questo bear market se ci fai caso ha mantenuto la struttura di mercato ha avuto anche un calo un crollo insomma intorno a un dollaro e 26 un dollaro e 36 perché qua dal punto di vista fondamentale c'è stato il crollo di ftx con sam bankman friedman fried come si pronuncia con ftx che è crollato e ti ricordo che ftx era uno dei maggiori investitori su nier protocol quindi per liquidare le sue posizioni di nier il prezzo è anche un po crollato dal punto di vista di analisi fondamentale se poi andiamo a guardare i nostri indicatori di trading infiniti e sniper citavano il sell già molto prima con due settimane di anticipo quindi se hai attivato i tuoi indicatori riservati allora già insomma sei molto avvantaggiato però per il lungo termine vediamo perché può valere la pena investire non sono consigli finanziari sul token nier ha mantenuto la struttura del mercato questo lo possiamo vedere andiamo a vedere di che si tratta quindi andiamo su nier.org che è il sito internet ufficiale ok che cos'è nier e puoi creare senza limiti su una piattaforma web 3 che lascia tutte le barriere dietro se stessa behind scegli un'avventura puoi costruire built quindi puoi sviluppare software usando già scritte rast molto interessante perché è lo stesso linguaggio di programmazione dell'ecosistema cosmos puoi scalare in maniera infinitesimale e poi delight users deliziare i tuoi utenti puoi crescere wind founding assess talent quindi mettono a disposizione anche dei fondi se vuoi crescere insieme a nier senza limiti e puoi anche creare fare possedere il tuo ip sul web 3 distribuire direttamente e far parte di una community puoi fare cose amazing fantastiche perché con nier è una tecnologia che rispetto a ethereum è molto molto più veloce e scalabile come vedi ci sono creazioni illimitate grande tecnologia non è niente senza la sua usabilità e ci arriviamo all'usabilità perché vedremo anche il numero di utenti che utilizzano e che hanno un wallet nier come vedi nier è una piattaforma che aiuta gli utenti a superare adesso ti traduo un po con l'inglese maccheroni con le barriere che normalmente ti diciamo tengono al di fuori dallo spazio del web 3 da complicate user interface user experience a alti costi per scalare con nier vedremo anche che una transazione oltre ad essere velocissima cioè impiega due o tre secondi e anche non dico gratis ma insomma puoi trasferire token nier dal tuo wallet o da un exchange con pochi spiccioli si tratta di 3 5 centesimi ecco non parliamo dei due o tre dollari ad esempio che avviene adesso su ethereum quindi non ci sono confini non ci sono limiti per la scalabilità e anche usabilità puoi cliccare start building e ti manda dalla parte di nier.org developers e quindi c'è tutta la documentazione nier e può iniziare a sviluppare e costruire app su nier e arriviamo anche a vedere quante app sono sviluppate su nier ma continuiamo un po la panoramica come vedi ha partecipato all'ethereum denver del 2023 nier faceva parte e quindi ha esposto i suoi concetti nier annuncia qui ci sono le ultime novità da parte di nier annuncia blockchain operation system nier è stato ospite a ethereum denver highlights se clicchi qua puoi leggere tutto e via dicendo low cost quindi bassi costi alta velocità effortless scale cioè hai una scalabilità senza stress senza sforzi ok ecco qua i numeri che dicevamo vedi una transazione costa meno di un centesimo di dollaro ed è vero poi qualche exchange magari se ne approfitta di far pagare 3 4 5 centesimi comunque quando trasmetterai nier dal tuo wallet vedrai che veramente la transazione è sotto il centesimo di dollaro ci sono più di 25 milioni di account creati e vediamo anche come si crea un account con due click quindi più di 25 milioni nel mondo giornalmente ci sono 446 mila transazioni time to finality ovvero una transazione su block chain nier da quando parte questa transazione a quando arriva e viene concretizzata e quindi diffusa su tutto il ledger su tutta la block chain è di circa 1.1 secondi quindi anche io ho detto 35 secondi perché magari ci stanno i tempi dell'exchange è tutto comunque da nier a nier da wallet a wallet un secondo e uno è velocissimo poi anche un occhio come vedi alla l'ambiente climate neutral now and forever e per sempre è neutrale con il clima quindi ai crediti certificati carbon neutral e anche a un basso energy footprint ora che tu creda nell'ambiente oppure no io personalmente si ci tengo particolarmente e cerco di fare il massimo per quello che posso comunque è anche dal punto di vista degli investimenti investimento un trend è un trend importante questo dell'ambiente poi ognuno dice la sua può dire sì ok noi facciamo questo però c'è l'india e la cina che non lo rispettano in tutto però è pure vero che goccia dopo goccia si crea un oceano al di là di questo comunque nier sta attento all'ambiente ed è una cosa che non insomma non guasta non fa male anche perché se ci pensi rispetto ai anche ethereum sta addettando un po come si dice sta addettando un po il tracciato perché dirmi è passato da un po che non è una parolaccia o qualcosa porno ma pover proof of work ovvero la tecnologia di bitcoin mi pare ne parlavo qua sul canale su qualche video ha la tecnologia post proof of stake ovvero metti in sicurezza la block chain mettendo a staking i tuoi ethereum e in automatico hai molto meno bisogno di energia perché mentre prima facevi di mining di ethereum con delle schede grafiche quindi invidia che più ne ha più ne metta consumando tantissima energia elettrica adesso con la decentralizzazione di noti distribuiti puoi consumare molta meno energie quindi eco friendly ethereum e nier già è partito con questa tecnologia e vedi la leggiamo insieme l'innovativa block chain di nier è sviluppata design uses ok quindi è stata sviluppata a un utilizzo di una frazione di energia degli altri network uses e richiede una specie di crypto mining va bene insomma diciamo consuma poca corrente poi puoi approfondire qui ti spiega tutto passo passo come vedi già sono partiti nel 2001 con questo con questa vision e vedi dal carbone carbon dioxide quindi dalla co2 le emissioni nell'atmosfera puoi andare a leggerti insomma e qui spiega proprio quello che ho detto vedi tra l'altro non mi sono preparato questa questo video ma avevo già studiato nier ci tenevo a condividerlo con te quindi quando questi contenuti ti danno valore aggiunto fammelo capire con un pollice all'insù iscriviti gratis al canale questo qua ac69 crypto trading alla campanellina vienimi a trovare unisciti nel gruppo riservato questo è il gruppo pubblico ac69 crypto trading insomma trovi tutti i link in descrizione fammelo capire perché se ti sto dando valore aggiunto e vedo tanti mi piace iscrizioni forse continuo anche con questi argomenti quindi qui puoi approfondire insomma impara un po navigare se poi hai difficoltà con l'inglese insomma non è che sono cintura nera d'inglese nella cavicchio maccheroni con un piatto di maccheroni però puoi utilizzare anche google traduttore e qui vedi già nel 2001 aveva questa vision non lo diceva guarda che bitcoin col pop col proof of work consuma tanta corrente mentre noi non vogliamo fare questo vogliamo migliorare come vedi bitcoin in genera circa 37 milioni tollerate di co2 di emissioni annuali e via dicendo quindi come vedi hanno già erano già partiti nier con una vision interessante nier sulle news via dicendo ecco qua questo ti volevo far vedere ci sono centinaia di daps running on nier cioè stanno girando sulla block chain nier centinaia di daps decentralized application qualcuno è qualche cazzata per cazzeggio che comunque interessante sono anche giochi qualcun'altra di ad up è molto molto interessante innovativa ricordiamoci che dal punto di vista di analisi fondamentale di un progetto cripto che questo è quello che ci interessa a noi parliamoci chiaro senza girarci tanto intorno ci interessa investirci e guadagnarci altrimenti che stiamo qua a fare solo per guadagnare anche per la passione per carità per l'innovazione per cantare suonare cantarle suonarlo un po fuori dal coro però quello che ci interessa è guadagnarci quindi ricordiamoci che dal punto di vista di analisi fondamentale affinché un progetto possa succedere possa avere successo indipendentemente dal prezzo adesso come vedi sta intorno a due dollari magari caro un po magari su un altro video un'altra lezione vi faccio vedere anche i nostri indicatori riservati cosa dicono su nier quando ci danno il segnale di comprarlo quando ci danno il segnale di venderlo però per il lungo termine che un progetto cripto abbia successo che cosa serve il suo utilizzo quindi abbiamo visto che ci sono più di 25 milioni di wallet attivi quindi almeno 25 milioni di persone nel mondo lo hanno attivato e nel mondo cripto iniziano ad essere numeri interessanti in più è utilizzato no cioè questo cacchio di nier funziona e se funziona abbiamo visto che costa pochissimo il costo di transazione ci mette un secondo e uno per essere trasmesso da una parte all'altra del mondo ma viene utilizzato andiamo a vedere l'hanno chiamata ozon nier punto com o un po americano insomma una cosa bellissima o meraviglioso nier punto com e cazzo qui ce ne stanno 1.067 di progetti non centinaia quindi come vedi aumentano nel tempo passalo a ritrovare a rianalizzare magari fra un mese due mesi un anno e vedi se sono più o meno di 1.067 magari saranno 1.100 quindi sono aumentati addirittura vedi aurora è un octopus ecosystem esploriamo i progetti qui ti fa vedere i nuovi aggiunti vedi quindi se clicchi qua vediamo gli ultimi aggiunti interessanti vedi c'è flow carbon questo è un trend molto interessante quello dei live carbon credits ovvero un'azienda nel mondo per essere eco friendly come vedi questo è un trend no anche dal punto di vista dell'investimento ovvero per rispettare l'ambiente o ci stai attenta e quindi non produci co2 nitride carbonica ed è giusto che sia così oppure che fai devi comprare dei crediti da delle aziende che sono così innovative e che inquinano così poco con il loro lavoro il loro fatturato in base a vari parametri e quindi riescono a vendere i loro crediti però che è successo c'è stato qualche anno fa c'è pure un film a riguardo interessante che agliardo da vedere una mega truffa da milioni se non centinaia di milioni di euro di truffa in francia e ci hanno fatto un film dedicato però se te ci pensi questi credit carbon se li metti su block chain a questo punto non sono più falsificabili sono trasparenti quindi stanno nascendo delle daps che fanno proprio questo lavoro guarda caso flow carbon ha sviluppato la sua decentralized application su block chain near ma ce ne sono tanti guarda ad esempio c'è gate omega block chain validator running high performance secure nodes questo è un validatore di block chain che fa girare dei nodi sicuri e ad alte performance ora ridendo e scherzando c'è anche il wallet ok x ragazzo questo non lo sapevo il wallet ok x clicchiamoci ok x tra l'altro siamo pure partner di ok x come ac69 crypto trading trovi il link sotto in descrizione e mi sembra che come vantaggio oltre che al 20 per cento di sconto a vita sulle fees ci aveva dato a noi non una sola crypto box mystery box gratis ma ben due quindi quando ti iscrivi sfrutta i vantaggi poi condividi i tuoi in totale trasparenza non lo sapevo però che il wallet ok x è sviluppato su block chain near su aurora addirittura e questo non lo sapevo vedi e qui ti spiega video somnere ok x wallet addirittura sviluppato su block chain near interessante se un gigante che smuove miliardi centinaia di miliardi di dollari all'anno un exchange come ok x ha optato ha scelto per near interessante e questo non lo sapevo vedi perché sono passato a trovare ecco qua sono passato a trovare questo sito adesso del registro di nuovo e ci sono molte novità guarda poi tutti i progetti le decentralize application sviluppate su block chain near sono qua la tua sinistra questa colonna raggruppate per argomento vedi ci sono 54 wallets sviluppate su near 70 progetti di validatori 11 explorer 32 bridge bridge significano punti cioè ti collegano diciamo block chain diverse perché un po un casino no far comunicare dirium con cosmos quindi sono nati ad esempio dei bridge dei ponti che a volte vengono hackerati rubano i soldi però comunque senza fare tanti giri per le cce per gli exchanges con i bridge con i ponti c'è questo funzionalità quindi hanno la loro utilità c'è storage quindi per quando ci clicchi sono 12 progetti di storage cazzo anche al wave è sviluppato sul near vediamo un po il primo questa interessantissima considerare sponsorizzato a r dal governo americano il primo veramente ovviamente gli inglesi ne che sono semplici ragionano al contrario scrivono al contrario quindi partiamo dalla fine questo è un network di storage quindi di memorizzazione di archiviazione di informazioni permanenti veramente il primo sviluppato su block chain e dicono che ar wave che magari è uno dei prossimi progetti ancora non ci ho investito sto aspettando il momento propizio mannaggia me l'avevo scoperto quando era all'inizio l'avevo scoperto qua quando stava ecco qua l'estate del 2021 stavo in giro nel cilento l'estate e questo è scappato fuori e stava veramente veramente a poco però magari c'è occasione per entrare di nuovo in ar ar wave considera che è stato anche appoggiato dal governo americano e infatti poi è schizzato e ha fatto anche 72 dollari al pezzo e lì era il momento di guadagnare di di farci diciamo di mettere da parte riprenderci i soldi investiti come vedi ar wave è sviluppato su near è una daps quindi è molto molto interessante considera che il backbone quindi la spina dorsale di questi progetti alla block chain near dacci un'occhiata andiamo a vedere anche le decentralize apps quindi vedi questa qua sono applicazioni di infrastruttura e sono 239 poi ci sono le dap le applicazioni decentralizzate ad esempio sulla dei fi ecco le qua poi ci sono i launch pad vediamo un po insomma è un mondo impressionante quando ci clicchi tipo su wanna swap vuoi swappare ci clicchi e ti spiega quanto costa il token tutto questo è sotto luci anni ad esempio one questo token sta alla posizione 3448 su coin market cap o coin gico e gira su block chain near quindi tutti questi progetti senza la block chain near non potrebbero andare considera che near adesso sta intorno ai 2 dollari e messo a staking near da intorno all'11 per cento di interessi composti perché ti parlo di questo perché un po con l'inflazione un po con i vari casini che ci sono adesso nel mondo non è più sufficiente tenere cioè si può anche fare tenere un wallet un portfolio per lungo termine investito in cripto ma se questo ti genera un income un'entrata che sia del 2 dell'1 per cento in questo caso near paga l'11 per cento perché paga l'11 per cento perché abbiamo visto che l'offerta totale e massima è di un miliardo di pezzi siamo a 865 milioni di pezzi quindi mancano ancora 135 milioni di pezzi e te mettendo a staking i tuoi token near ci guadagni l'11 per cento annuale composto poi mi dirai leo per lo meno me lo chiedo io e quando raggiungiamo un miliardo di token beh a quel punto te mettendo a staking i tuoi token partecipi alla messa in sicurezza della blockchain near e automaticamente continuerai a prendere un income un una percentuale di guadagno basata sulle fees sulle commissioni della della blockchain near si spera che aumenterà il suo utilizzo comunque numeri alla mano insomma non chiacchiere ma numeri alla mano qui le applicazioni le daps sviluppate su blockchain near sono tantissime near poi c'è anche aurora aurora dovrebbe essere una sotto blockchain non dico cazzate perché non l'ho studiata molto però ne ho sentito parlare spesso e non ci ho ancora investito anche perché qui ci vorrebbero i miliardi per investire su tutto aurora dovrebbe essere un lawyer 2 quindi una blockchain di lawyer 2 sviluppata su near al cui a sua volta sono state sviluppate altre blockchain al suo interno quindi sotto aurora e anche octopus dovrebbe essere lo stesso concetto vedi launchpad token sale platform costruite su near e aurora c'è anche octopus ovviamente se non ti appare niente clicca direttamente sulla voce octopus e vedi di che cosa si tratta near pad launchpad e the fee hub per l'ecosistema near quindi come vedi ti si apre un mondo dacci un'occhiata near secondo me non sono consigli finanziari e ti anticipo che ci ho investito insomma abbastanza su near è un progetto da tenere sicuramente d'occhio da qui alla prossima bull run ovviamente non fare all in su near la diversificazione è la strada giusta mettere a staking se questo video e gli altri video di questo di questo tipo otterranno parecchi mi piace e iscrizioni sul canale continuerò magari ti faccio vedere subito dedicato come si crea il tuo wallet near passo passo come memorizzare la passphrase come mettere a staking i token i token e via dicendo in link in descrizione a questo e gli altri miei video trovi tutte le promozioni link partner ovviamente sono link referral nella massima trasparenza quindi sfrutti miei condividi poi i tuoi però come gruppo di trading come canale a siamo riusciti a strappare delle promozioni più migliori che non si dice in italiano però otterrà insomma magari il 20 per cento di sconto invece che il 10 o la doppia mystery box su ok x invece con una sola insomma sempre sempre cerchiamo di dare come ac69 crypto trading valore aggiunto alla community passami a trovare passaci a trovare perché siamo tanti ragazzacchi anche qua nel gruppo riservato su telegram e unisciti ag69 crypto trading dove trovi valore aggiunto ci vediamo al prossimo video e ti ringrazio per la tua attenzione ciao da leo